Il mistero dei dipinti rubati Mi sveglio tardi, alle 11, per fortuna non devo andare da nessuna parte. È estate e l'università è chiusa. Scendo al piano di sotto. Che caos! Bicchieri e piatti dappertutto. Portaceneri pieni di sigarette. Accidenti. Ho detto ai ragazzi che non si poteva fumare. Esco nel giardino. Per fortuna qui è tutto pulito. Sento dei rumori che vengono dalla cucina. Chi può essere? Sicuramente non sono mamma e papà. Sono partiti la scorsa settimana per 15 giorni in crociera. Vado in cucina e trovo Ginevra. Ginevra è una mia vecchia amica. Eravamo insieme alle scuole elementari, alle medie, al liceo. È come una sorella per me. Cosa stai facendo? Chiedo. Non vedi? Sto lavando i piatti e i bicchieri. Se i tuoi genitori vedono questo caos, non possono vederlo. Sono in crociera. Tornano tra una settimana. Portami i piatti e i bicchieri dalla sala, per favore. Vado in sala e prendo i piatti e i bicchieri sporchi. Li metto nel lavello. Cosa c'è, Tommaso? Hai una faccia? esclama Ginevra. In sala c'è qualcosa di strano, dico io. Cosa? Viene un secondo. Ginevra mi segue in sala. Che cosa c'è? Io non vedo niente. Guarda la parete e le dico. Ah, sì, hai ragione, esclama. A quella parete era appeso un quadro, quello con la casa sul fiume, e adesso non c'è più. L'ha preso qualcuno degli invitati alla festa di ieri? Non lo so, ma mi sembra strano. Il quadro era bello grosso. Io sono poi stato qui tutto il tempo. No, è impossibile. Già, e poi perché portare via quel quadro? Aveva valore? Domanda a Ginevra. Assolutamente no, e aspetta, ne abbiamo un altro dello stesso autore. Dov'è? Nello scabuzzino. Cosa fa un quadro nello scabuzzino? A mio padre non piaceva per niente. Andiamo nello scabuzzino, ma qui il quadro non c'è. Si sono portati via anche questo esclamo. Chi? Domanda Ginevra. Non lo so. Piuttosto come sono entrati dalla porta d'ingresso? Risponde lei. Quando sono arrivata stamattina presto era aperta. Accidenti, forse ieri mi sono dimenticato di chiudere la porta. Già, quindi chiunque può essere entrato, proprio così. Ma manca qualcos'altro? Chiede Ginevra. Apre un paio di cassetti. So che qui i miei monitori hanno cose di valore. No, qui c'è tutto, dico. Volevano proprio quei quadri, fa notare Ginevra. Strano, strano. Forse vogliono venderli al museo dell'orrore. In quel momento Ginevra riceve un messaggio. È Giacomo. Mi invita in piscina, dice. Posso lasciarti nel caos? Sì, hai già fatto tanto. Grazie, Ginevra. Vai pure. Un secondo e poi la richiamo. Ginevra? Sì, va tutto bene con Giacomo. Eravate in crisi, no? Domando. Ma adesso va un po' meglio. Lui è innamorato. Sono io. Non sei innamorata di lui? Non lo so. Non sono sicura. Ginevra ride nervosamente. Fa così quando è imbarazzata. Ci salutiamo con i nostri soliti tre baci in stile francese. Solo in casa finisco di mettere a posto. Poi scrivo alla mamma che cos'è successo. Dopo due minuti mi telefono agitata. È entrato qualcuno in casa? Domanda. Sì, ma forse ho dimenticato di chiudere la porta. Sei uno stupido. Grazie, mamma. Replico io ironico. Hanno rubato qualcos'altro? Chiede la mamma. Nient'altro. Te l'ho scritto. Rispondo. Devi fare denuncia alla polizia, suggerisce lei. Per due quadri orribili? Domando. Non sono così orribili, dice la mamma. E comunque la cosa grave è che qualcuno è entrato in casa. Chiama nostro cugino Alberto. Sai che è un poliziotto adesso? Alberto. Alberto rimbambito. Non è vero. Alberto è un bravissimo ragazzo. Tu sei sempre stato geloso di lui. Non è vero. Chiama Alberto. Ripete la mamma. E io obbedisco. Ma sono sicuro che Alberto capirà ancora meno di me di questa strana storia. Allora, il prossimo esercizio da fare è da rispondere a queste domande. Che cosa ha fatto ieri Tommaso? Dove sono i suoi genitori? Chi lo aiuta a riordinare la casa? Che cosa c'è di strano in sala? Dove va Ginevra? E vero o falso? Il ragazzo di Ginevra è Tommaso. I ladri sono entrati in casa senza problemi perché la porta era aperta. Tommaso deve richiamare suo cugino. Tommaso trova un suo cugino molto simpatico.